avevo circa 12 anni quando i miei genitori mi mandarono in quel posto di merda furono davvero determinati a mandarmi in campeggio non proprio quel campeggio ma uno qualsiasi l'ho presi come un segnale per dirmi che sarebbero state al lavoro tutta la settimana e che non si fidavano lasciarmi da solo i miei genitori mi mostrarono la brochure a primo impatto sembra abbastanza divertente l'immagine sulla parte interiore aveva immagini attività e praticamente tutto ciò che un bambino di 12 anni vorrebbe in un campo sembra tutto a posto i bambini sembravano tutti divertirsi nella foto fui felice all'idea e alla fine cedetti me lo ricordo come se fosse ieri camp omega fra le colline della virginia in qualche piccola città sembrava come qualsiasi altro campo dormitori nei quali dormire falò durante la notte e animatori amichevoli ripensandoci forse troppo amichevoli all'epoca pensavo che fossero così perché si trattava del loro lavoro niente di più sbagliato all'inizio il campo era divertente anche se le attività erano un po strane ci fecero preparare delle bambole aventi il nostro aspetto la mia aveva della paglia al posto dei capelli e i bottoni azzurri come occhi poi ci fecero creare dei braccialetti con i nostri nomi tutto era personalizzato cosa che mi aspettavo da un campo dopo tutto ci ritrovavamo spesso intorno al focolare condividendo i nostri sentimenti per conoscerci meglio c'erano circa altri 25 campeggiatori e 15 animatori una dei campeggiatori attirò particolarmente la mia intenzione il suo nome era janet era carina e non parlava molto anche io ero timido quindi legamo molto facilmente godendoci il silenzio era l'ultimo giorno della settimana di campeggio ero così felice di tornare a casa il giorno dopo il campo era divertente ma mi mancava casa ci sedemmo tutti attorno al fuoco compresi le animatori non ero sicuro se fosse il fuoco a fare questo effetto ma sembravano diversi i loro volti erano familiari ma erano pallidi come fantasmi mi scrollai di dosso con la sensazione e ascoltai l'attività successiva vorrei tanto non averlo fatto ricevemmo tutte le bambole con le nostre sembianze tenevo la mia tra le mani e cercavo di non guardarla dato che i suoi occhi vuoti sembravano fissarmi queste bambole rappresentano ciò che eravate prima prima di questo campeggio disse il capo animatore a tutti noi poi ci fecero buttare le bambole nel fuoco la osservai venire inghiottita dalle fiamme scoppiettanti mentre il calore consumava la sua pelle di tela siete delle persone nuove ora disse il capo del gruppo animatori dopo questa attività ci dissero che ci sarebbe stata una cerimonia d'addio e la cena due degli animatori ci riportarono alle nostre camere e ci dissero di preparare le valigie ci spiegarono che la cerimonia si sarebbe tenuta vicino al granaio a confine della proprietà l'altro animatore se ne andò quindi ne rimase solo uno insieme a noi il suo nome era scott era sempre molto gentile e divertente ci aspettò al fogolare mentre noi raccoglievamo le nostre cose si comportò in modo strano appena mi si è detto vicino a lui aspettando tutti gli altri fissò il fuoco in silenzio con uno sguardo disturbato stampato in faccia vi amo normarò una volta tutti riuniti non sapevo con chi stesse parlando quindi pensai di aver sentito male vi amo ragazzi e farei qualsiasi cosa per voi disse chiaramente così che noi potessimo sentire ci guardiamo tutti con espressioni confuse ma lo troviamo un bel gesto e ricambiamo le sue parole dicendoli che li volevamo bene anche noi sorrise e si alzò siamo pronti dichiarò e ci guidò attraverso la foresta fino al limite del campo era buio e l'aria si fece più pesante ero entusiasta per la cerimonia ero pronto a partire per tornare a casa mi mancavano la tv e internet ne aveva abbastanza degli spazi aperti uscimmo improvvisamente dai boschi e il granaio si profilò dall'oscurità tutti gli animatori del campo stavano intorno ad esso formando un cerchio tenendo delle torci in mano senti un vuoto nello stomaco sapevo che qualcosa non andava mentre ci facevano entrare tutti nel finile era una vecchia struttura traballante sono sicuro che non era in regola con alcun codice edilizio ed era abbastanza sicuro che non dovevamo essere lì dentro gli animatori entrarono e formarono un cerchio intorno a noi chiudendo la porta dietro di loro il capo animatore si separò dal cerchio e si formò davanti a noi genet lewinski per favore fatti avanti per la tua partenza disse eravamo tutti a disagio ma genet si fece avanti ero felice per lei magari avrebbe ricevuto un fiocco o qualcosa di bello da portare a casa gli animatori la spostarono restringendo il cerchio che stavano formando avvicinandosi a noi tenendo per tutto il tempo le loro tocce senti il battito del mio cuore accelerare mentre si avvicinavano e si avvicinavano e pugnalarono genet al collo lei non urlò e all'improvviso si scatena un inferno mentre gli animatori gettavano le loro tocce contro le pareti del finile non notai affatto prima dell'accaduto che tutti gli animatori avevano con sé dei lunghi coltelli seghettati provai a correre ma il finile stava cominciando a bruciare come un fiammifero i bambini correvano urlando prima di essere pugnalati dagli animatori dobbiamo uscire da qui urlai prima di correre diretto verso scott car come vuoi restare per la cerimonia mi chiese i suoi occhi sembravano neri come la pece e aveva il sorriso più sadico che avessi mai visto gli tirai un pugno nello stomaco e corsi fuori attraverso un'apertura del finile non avevo mai corso così velocemente tutta la mia vita guarda indietro per un attimo dio vorrei non averlo mai fatto vidi delle figure nere stagliate dalla luce del fuoco correre urlando alcuni si fermavano con le braccia in fuori aspettando di essere pugnalati senti cantare all'inizio non riuscì a capirlo ma diventò sempre più forte sappiamo cos'è meglio per te ti amiamo ancora e ancora la vista dell'ultimo respiro di janet mentre la sua bocca si riempiva di sangue mi attraverso la mente e corsi via entrai nella foresta il cuore mi batteva nelle orecchie come un tamburo non avevo idea di dove stessi andando mi limitava a correre nella direzione da cui eravamo arrivati il canto mi seguì sappiamo cos'è meglio per te ti amiamo si ripeteva come un disco rotto ancora e ancora il bagliore di quell'inferno illuminò debolmente la proprietà così riuscì ad arrivare dall'altra parte dove si trovavano le camere guardai di nuovo dietro di me vidi la poscaglia muoversi e quel canto crescere sempre di più come mi hanno trovato come mi hanno seguito sappiamo cos'è meglio per te ti amiamo corsi più velocemente ma senti una mano strattonarmi la camicia caddi e lui con me guardai indietro vidi uno degli animatori aveva la mia caviglia in una mano e un coltello nell'altra i suoi occhi erano vuoti e neri e la sua pelle era bianca come un mensuolo urlai e calciai via dalla sua mano il coltello questo allentò un po la sua presa e ne approfittai per rialzarmi in piedi e correre verso l'uscita il cartello con la scritta campo omega si ergeva con un'ammaliante e terribile bellezza sopra l'ingresso ci passai attraverso i passi dietro di me si fermarono e anche gli animatori guardai di nuovo indietro ed erano fermi lì come intrappolati all'interno di quel campeggio pietrificati come se sapessero che non potevano attraversare il cancello cominciò a piovere e tutti alzarono i loro cappucci prima di allora non avevo nemmeno notato i loro abiti anche nella luce chiuca potevo dire che erano rosso sangue sappiamo cosa è meglio per te ti amiamo cantarono di nuovo cominciai ad allontanarmi lentamente con i miei occhi spalancati dal terrore mentre tiravano fuori i loro pugnali pensai che li avrebbero lanciati contro di me una parte di me voleva correre ed urlare ma l'altra era paralizzata davanti a quella scena all'unisono sollevarono i loro coltelli macchiati di sangue e si pugnalarono al collo il sangue schizzò dappertutto lo vedi mescolarsi con la pioggia mentre scorreva sul loro collo cadevano a terra tutto quello che potevo fare era urlare e correre giù per il sentiero sterrato fino alla città vicina mi sembra di scappare per settimane finché non trovai la stazione di polizia mi senti sollivato ed entrai in quel momento dovevo proprio sembrare incasinato i miei capelli erano ingarbogliati con una miscela di sudere e pioggia probabilmente avevo anche del sangue sulle mie mani e le guardai erano pulite la pioggia doveva aver lavato via il sangue camminai verso l'arception il più tranquillo possibile dove la segreteria mi stava guardando avevo un'espressione scioccata sul viso come se fosse appena tornato dal regno dei morti supponevo che fosse a causa del mio aspetto le spiegai tutto il campeggio gli animatori quello che fecero tutto mi guardò scioccata e mi dedo un bicchiere d'acqua vuoi chiamare i tuoi genitori carlo mi chiese sì per favore mi diede il suo telefono e li chiamai immediatamente mi sorpresi del fatto che riuscivano a capirmi dal momento che stavo soffocando con le mie stesse lacrime ed il mocio mi scorreva in faccia e si accumulava sulla mia bocca partirono il più rapidamente possibile per venirmi a prendere ed arrivarono alla stazione di polizia dopo un'ora ero così sollevato che mi avessero trovato ed una volta salito in macchina chiusi gli occhi mi senti finalmente sicuro dovevo essermi addormentato perché quando aprì gli occhi eravamo in un posto a me sconosciuto sbatté le palpebre un paio di volte eravamo parcheggiati di fronte a un edificio di mattoni che esergeva cubamente verso l'alto e fu in quel momento che realizzai qualcosa la donna alla stazione di polizia come faceva sapere il mio nome non aveva mai detto dove siamo chiesi preoccupato i miei genitori mi guardavano con sguardi tristi tesoro siamo in un istituto psichiatrico siamo preoccupati per te affermò mio padre in tono piatto la mia mascella si spalancò voi non mi credete chiesi carlo eri scomparso da una settimana ti sei presentato in una stazione di polizia in questa piccola città parlando di un campeggio di animatori assassini dichiarò mia madre ero silenzioso cercavo di lavorare il tutto carl sappiamo cos'è meglio per te ti amiamo cantarono all'unisono adulto Ostagò No 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 Grazie a tutti.